Continuiamo a parlare di stress compilando questo piccolo test, il termometro dello stress. Impariamo a conoscere lo stress e i suoi sintomi. Vi do un elenco di 12 items che non sono altro che l'elenco di disturbi che si registrano maggiormente. In una persona stressata, cercate di rispondere tenendo conto di una scala. Molto frequentemente, frequentemente, talvolta, raramente, molto raramente, mai. Quindi ripeto, molto frequentemente, frequentemente, talvolta, raramente, molto raramente e mai. Numero 1. Impossibilità di addormentarsi o di dormire senza interruzioni. Quindi rispondete molto frequentemente, frequentemente, talvolta, raramente, molto raramente, mai. E così per tutti gli altri successivi. Numero 2. Mal di testa o dolori alla testa. Numero 3. Indigestione o nausea. 4. Sentirsi stanco o esausto senza un apparente motivo. 5. Tendenza a mangiare, bere, fumare più del solito. 6. Diminuzione del desiderio sessuale. 7. Mancanza di respiro o senso di vertigine. 8. Diminuzione dell'appetito o aumento esponenziale dell'appetito, della fame. 9. Tremiti, tremori muscolari. 10. Sensazione di avere punture o fitte in parti del corpo. 11. Sensazione di non avere voglia di alzarsi dal letto la mattina. 12. Tendenza a sudare o sensazione che il cuore batta forte. 12. Quindi attribuitevi poi per ogni items e in base a quello che avete risposto il seguente punteggio. 13. Per ogni molto frequentemente 6 punti. 14. Per i frequentemente 5 punti. 15. Talvolta 4 punti. 15. Raramente 3 punti. 16. Molto raramente 2 punti. 16. Mai 1 punto. 16. Fate il totale. 16. Se il vostro punteggio totale supera i 36 punti, il livello di stress è già medio. 17. È il caso forse di fermarsi e di approfondire. 17. È chiaro che questo non consiste in un elenco assoluto ed esaustivo, ma è un primo strumento sicuramente di conoscenza o di pre-diagnosi, se vogliamo. 17. Sicuramente occorrerebbe in ogni caso sempre e comunque approfondire attraverso uno specialista. 18. Grazie. 19. Grazie. 19. Grazie. 20. Grazie. 20. Grazie. Grazie a tutti